Giorgione Sto attaccando la tua macchina, la porta di capo, sono disperato. Non c'è comunque, tira la gira per Facebook. Sto attaccando. Ci ritrova una motocrossa. Ma quando pensi che la vincera? Ma è un po' che c'è? Ci appartiamo con le immagini. Aspetta! 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 A tutti i comprati! Che comprati! Sì, che c'è il gioco il gioco. L'acqua ci sono meno di di me Ma che video che è in te Aspetta!